Oggi ci troviamo a Tesserete perché alcuni residenti della zona ci hanno segnalato un problema che li sta preoccupando negli ultimi mesi. Dietro di noi si trova un muro di questo palazzo dal quale fuoriescono acque di scarico. Praticamente la condotta fognaria si è rotta e acque di fogna effettivamente fuoriescono dal muro fino al suolo, arrivando anche in strada in alcune situazioni. Ecco siamo qua con il signor Corrad che è uno dei residenti toccato dal problema perché vive a fianco al condominio in questione. Cosa ne pensa del fatto che a sei mesi di distanza dall'emerge del problema la situazione è ancora la stessa? Penso che è una questione che andava risolta immediatamente al momento in cui si prendeva atto del fatto che c'era fogna che stava fuoriescendo e andava sul suolo pubblico. Lì non bisognava avere esitazioni. Non capisco un atteggiamento in cui ci si attacca piuttosto a una formalità e si fanno ricorsi piuttosto che risolvere. Più di una volta il liquido, a dipendenza appunto di quanto veniva utilizzato la canalizzazione dello stabile, usciva addirittura andando a riversarsi sulla strada antistante lo stabile, addirittura scendendo perché è comunque in discesa. Soprattutto abbiamo segnato anche al Comune che la strada viene percorsa anche dagli allievi che si recano alle scuole medie. Anche perché la colorazione, soprattutto durante questi episodi, era chiaramente salmastra, a parte che è stata confermata anche dall'ufficio tecnico del Comune che ha ispezionato le canalizzazioni, che si trattava proprio di condotta foniaria. Quindi per voi la situazione è insostenibile? No, direi per tutti coloro che transitano per il quartiere e devono comunque vedere questa situazione, è veramente sostenibile dal punto di vista e maleodorante e igienico. Il Comune ha dato ordine al proprietario dello stabile di ripristinare la situazione normale facendo i dovuti lavori, ma il proprietario si è rifiutato e ha anche fatto ricorso al Consiglio di Stato. La situazione quindi ferma al momento e i residenti della zona sono esasperati. Il problema comunque rimane, c'è, anche con il rincorso pendente. La situazione, diciamo, paradossale è legata al fatto che quando si viene a conoscenza di una situazione del genere, bisognerebbe agire e riparare immediatamente o di ripristinare una situazione igienica, ma non direi accettabile, dovuta. Lei ha avuto contatti anche con gli inquilini dello stabile in questione? Cosa ne pensano? Sì, mi è capitato di incontrare i vicini, anche loro erano molto perplessi inizialmente e poi in un secondo tempo preoccupati. Loro sono appunto inquilini e probabilmente non osano o comunque hanno molto più timore a lamentarsi.